eccoci ragazzi si riparte per questo viaggio sardo che non sarà solo sardo ma vedrete più avanti oggi qua da sant'antioco siamo ripartiti da questo splendido campeggio dove mi sono fermato per due notti per uno rilassare un po due risolvere un po i problemi al fondo sella o al fondo schiena come si suol dire però tutto bene adesso mi arrivano un sacco di messaggi perché la non prendeva niente oggi tappa breve sono un'ottantina 80 90 chilometri di strada queste tappe saranno brevi però ho una chicca ho una chicca e quindi iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace comunque perché nei prossimi video arriverà una chicca spettacolare oggi ho deciso per tre giorni comunque sarò in albergo in hotel per risolvere un po ancora i residui del fondo schiena poi dovrei riuscire ancora fermarmi in campeggio ho trovato per oggi un hotel abbastanza economico sui 50 euro quindi ho deciso di fermarmi lì per questa notte quindi oggi si riparte da santa antioco posto da visitare sicuramente venite a vederlo perché merita poi questo campeggio tonnara tonnara davvero spettacolare una spiaggia fantastica acqua politissima ma come in quasi tutta la sardegna acqua davvero limpida oggi faremo degli altri pezzi un altro pezzo di strada abbastanza famoso che è la teulada kia quindi dovrebbe essere un pezzo di strada molto carino comunque ieri abbiamo fatto dei tratti ieri fatto dei tratti davvero molto belli l'alghero bosa e tutti gli altri tratti quindi oggi un altro tratto abbastanza famoso che è la teulada kia per poi tenermi gli ultimi giorni per farmi per fare la cagliari villa simius che vedrete comunque nei prossimi giorni prima tappa di oggi non è teulada né kia ma è porto pino che dovrebbe essere un posto da anche abbastanza bello sul mare che da su mare andiamo a vederlo quindi a dopo ragazzi a dopo sant'antioco so se si vede bene spero di sì spettacolo bel posticello ma stiamo uscendo dall'isola che è proprio un'isola è collegata da un ponte di 100 metri neanche però è un isolotto bello grande perché è grande adesso ritorniamo sulla sardegna ragazzi porto pino vediamo un po mi sembra comunque carino già l'arrivo qua ci sono delle non so un lago sembra una laguna vabbè sono una laguna che provo provo a indentrarmi in questa strada semisterrata che non è proprio sterrata che spettacolo che panorama mozzafiato wow sta raggiungendo quel di teulada anzi dovremmo essere già nel comune di teulada farò la kia teulada sia da sotto ovvero che dovrebbe essere il tratto più bello sia da sopra quindi al contrario teulada e poi chi è teulada da sopra perché ho l'albergo a teulada questa è un drittone ah intanto è tutta zona militare penso che qua facciano le esercitazioni perché vedo tante cose diroccate e qua invece proprio penso tutto diroccato anche qua ok dovremmo esserci sulla kia teulada anzi la teulada kia spero che fra un po' iniziano anche le curve bestia che spettacolo guardate qua che spettacolo via dai continuiamo sono 20 chilometri fino a kia così che strada sono un uomo vero un bandolero amore criminale amore criminale sono un uomo vero che strada che strada che strada è e mentre il sole sale 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 su nananananananananana nananananana nananananana e andare fuori di testa te ma che strada una pista una pista spettacolo wow comunque che bello perché ci sono tante spiaggettine e callettine così che non c'è neanche tanta gente guardate che bello 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 spettacolo bello bello bestia che yacht che yacht porco cane che mare che mare che yacht che mare guarda che yacht con i quad con i quad domani con i quad si ricomincia con i drittoni ok ora ritorno verso teulada da kia sono passato da kia facendo la strada un po' più interna però prima devo vedere se trovo un distribuidor a parte che vabbè ho solo 18 chilometri da fare quindi dovrebbe bastarmi la benza che prima lampeggiava adesso non lampeggia più quindi vediamo massimo resto a secco ragazzi ma io sono molto ebbe anche questa strada domus de maria comune denuklearizzato domus de maria domus de maria calcio dan Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche il panorama non è male. Tutto l'interno qua da Sardegna. E speriamo che ci sia un distributore. E speriamo che ci sia un distributore. Comunque devo dire che le strade sarde sono davvero ottime. Ottime, ottime, ottime. Meno quello che ho percorso io. Tenute benissimo. Asfalto perfetto. Sono così che si devono tenere le strade.